Mesagne nel castello storico di questa città. Questa sera c'è un incontro molto importante organizzato dall'associazione Centro Studi Antonucci che hanno organizzato un incontro con una personalità che nel 1996 ha avuto un grosso problema nelle guerre del Kosovo. Stiamo col Presidente e il Vicepresidente, ci facciamo dire da loro di cosa si tratta. Sì, questa sera abbiamo la presentazione del libro del colonnello del ruolo d'onore Carlo Calcagni. È un militare dell'esercito, pilota di elicotteri, che durante la guerra in Bosnia è andato in missione di pace come molti nostri militari. Purtroppo in quell'occasione è entrato in contatto con l'uranio impoverito e qualche anno dopo si è ritrovato con delle patologie che lo hanno reso invalidanti, molto invalidanti. Questo nostro conterraneo, perché poi è salentino anche lui, si è dedicato allo sport e con lo sport sta riuscendo, per quello che è possibile, a superare tutti i momenti di difficoltà, se così li possiamo chiamare. Infatti è un campione parolimpico, è appena tornato dall'Olanda con tre medaglie d'oro dagli Invictus Games. E adesso, oggi, è qui per presentare il suo libro autobiografico, che si chiama pedalando su un filo d'acciaio. Presidente, la vostra associazione, oltre a questo evento, si organizza anche altri eventi? Moltissimi altri eventi organizzano il nostro centro Antonucci, centro culturale. Però questa volta siamo particolarmente compiaciuti di aver organizzato questo incontro con il colonnello Calcagni, perché, al di là dello sport, praticamente, questo riesce a vivere facendo sport, questa volta è lo sport che lo tiene in vita, ma soprattutto perché è un argomento molto attuale. Cioè, le conseguenze della guerra non sono solo nel momento in cui la guerra avviene e si combatte, ma le conseguenze sono per prossimi futuri. E il nostro colonnello, diciamo, è un esempio. Noi continueremo a fare queste attività, non solo nella presentazione di Libra, ma altri eventi, abbiamo tanti altri eventi da fare, da programmare e da offrire alla cittadinanza. Questo evento, devo dire la verità, è stato un evento voluto dal Vicepresidente, perché ha voluto, dal buon rapporto che ha col colonnello Calcagni, ha voluto fortemente fare questo incontro. Il colonnello Calcagni, purtroppo, ha poco tempo a disposizione nei ritagli che riesce a fare, perché tra le sue patologie, tra gli sporti e tutto il resto, praticamente è riuscita a ritagliarsi uno spazio. Stiamo sempre a Mesagne, al castello Svevo di Mesagne, con l'ospite, mi faccia passare questo virgolettato, d'onore, perché presenta il suo libro, Pedalando sul filo d'acciaio. Stiamo in presenza del colonnello Carlo Calcagni, che ci parlerà di questo libro. Come lo ha definito la critica, è un inno alla vita, è un libro autobiografico che non vuole essere un libro di denuncia, non vuole essere un racconto di malattia, ma vuole essere proprio uno stimolo alla vita. Voglio raccontare, attraverso la mia esperienza, positiva e negativa, ma veramente intensa, e basta pensare che nei miei quasi 54 anni posso dire veramente di aver vissuto più di due vite e non aver sprecato sicuramente neanche un attimo della mia esistenza e spendendolo sempre, quando mi è stato possibile, per gli altri. E questo è uno di quelle motivazioni che mi quasi ripagano di tanta sofferenza. Lei è stato nel Kosovo, tutte queste sue sofferenze sono cause del suo lavoro da militare nel Kosovo, perché fu contaminato dal uranio impoverito. Io sono stato nei Balcani, a Sarajevo, con il primo contingente di forza multinazionale di pace della NATO sotto l'eggita dell'ONU. Ero l'unico pilota di elicotteri dell'esercito italiano del primo contingente nel 1996. Purtroppo, senza sapere, ho respirato le ormai tristemente note polveri sottili di metalli pesanti. Basta pensare che nel mio corpo, che sembra integro e d'acciaio, proprio come quel filo sul quale io continuo a restare in equilibrio, che sia un filo, ma è un filo d'acciaio appunto che non è facile da spezzarsi, e hanno trovato ben 28 tipi diversi di metalli pesanti, tra cui il cesio radioattivo e l'uranio radioattivo. Questo ovviamente ha portato al riconoscimento della dipendenza da causa e fatti di servizio, proprio della missione internazionale di pace nei Balcani. Però, ovvio, i problemi restano. Il vivere quotidiano è devastante, il doversi curare fino a quando non sopraggiungerà, e speriamo più tardi possibile, la morte, dalla quale ormai cerco di scappare, ipoteticamente, con quel mio triciclo, sul quale cerco di macinare chilometri e chilometri ogni giorno, proprio quasi a scongiurare quella morte che è sempre al mio fianco, e cerco di staccarla e di trasformare anche tutto ciò che di negativo capita quasi ogni giorno, lo trasforma in qualcosa di positivo. Da questo dramma ne è uscito anche una cosa molto positiva, al di là delle belle parole che sta dicendo in questo momento alla nostra testata giornalistica. Lei è anche un campione di quel suo tricicolo, che da poco ha portato in Italia, al sud, nel Salento, tre medaglie d'oro. Sì, ne parliamo perché è storia, fa parte della storia. Sono stato in Olanda agli Invictus Games, edizione del 2020, rimandata quest'anno all'AIA, quindi 2022, e insieme alla rappresentativa italiana dei veterani, di tutti coloro dei militari che hanno riportato dei danni permanenti durante il servizio, 19 atleti e abbiamo portato un po' di medaglie in Italia con grande orgoglio. Io, unico pugliese, ho portato ben tre medaglie d'oro nel Salento, una nell'atletica leggera nei 400 metri e due nella mia specialità, il ciclismo appunto, con un triciclo che usavo per la prima volta. Fra l'altro, la cosa bellissima che mi piace raccontare, io non avevo mai utilizzato quella bike, mi è stata prestata addirittura da una ditta inglese, nonostante non l'avessi mai utilizzata, sono riuscito comunque a vincere entrambe le gare e portare a casa questo numero perfetto, il tre, numero perfetto. Ma ho portato soprattutto quell'esperienza di vita straordinaria e di quella comunità che ti ricarica di energia, che ti dà vita, perché le medaglie, sì, quelle le vinci sul campo, sono un ricordo, ma le medaglie più belle sono la riconoscenza delle persone che incontri, lo sguardo, gli occhi pieni di luce nel vederti e soprattutto quel grazie che tante persone anche incontrate sul tram lì in Olanda o per strada e mi ringraziavano per il messaggio di vita che ero riuscito a trasmettere proprio durante le competizioni. Grazie e in bocca al lupo! E viva il lupo sempre!